La missione è al via Stiamo vincendo Stiamo perdendo Aereo spia pronto al decollo Stiamo vincendo Il nostro aereo spia è in volo Approvvigionamenti pronti per la consegna Indicateci la destinazione Approvvigionamenti pronti per la consegna Disegnate il punto di lancio Approvvigionamenti alleati d'arrivo Cobra disponibile Cobra alleato in arrivo Aereo spia alleato in arrivo Aereo spia nemico sopra di voi Aereo spia pronto al decollo Aereo spia pronto Il nostro aereo spia è in volo RGXD alleato operativo Aereo spia alleato in arrivo Viva! 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 Diversità Abbiamo un uomo a terra Il nevico sta disturbando il radar Aereo spia pronto Aereo spia alleato in arrivo RCXD nemico rilevato in zona Aereo spia pronto al decollo Il nostro aereo spia in volo Aereo spia nemico sopra di voi Il nostro aereo spia in volo Approvisionamenti nevici in avvicinamento Bombardamento Napa nemico in arrivo Aereo spia nemico sopra di voi Il nevico sta disturbando i radar RCXD alleato operativo Aereo spia nemico in arrivo La vittoria è vicina Non mollate Mortai alleati in arrivo Aereo spia alleato in arrivo Attenti RCXD nemico individuato Aereo spia pronto Cobre in avvicinamento Il nostro aereo spia in volo Il nostro lavoro è stato apprezzato Ben fatto Il nostro aereo spia in avvicinamento Il nostro aereo spia in e Grazie a tutti.